Buongiorno a tutti, siamo qui per parlare di inizia scolastica. C'è un intervento appunto in oggetto per quanto riguarda la scuola Don Bosco, intervento che è iniziato lo scorso anno e contiamo di finire per tarda primavera. I lavori sono a buon punto, all'interno la struttura è quasi completata e la ditta appunto che si è giudicata ai lavori sta completando anche la parte restante all'esterno della struttura. Contiamo di avere appunto una scuola nuova, efficiente e sicura già dall'inizio del prossimo anno scolastico. C'è una grande novità riguarda l'altro plesso, un plesso di 10 filanico. fra qualche giorno inizieranno appunto i lavori di completamento dello stesso, quindi inizieremo con il secondo lotto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.